potere pilato buonasera a tutti come state buonasera buonasera siamo tornati a una nuova fantastica live pilata come ogni sera tranne domani perché domani sono da salda per se ricordatevelo domani non saremo qua ma le 18 30 su salda press e comunque comunque è bello avervi qui tutti insieme tutti insieme mi fa male il collo strano vero già che fatica che fatica che fatica ma ho un sacchetto vedo un pac si c'è leggetelo il titolo non c'è scritto c'è scritto solo sulla notifica perché non sei nel gruppo delle notifiche se no avresti ricevuto la notifica che dice la notifica dice specificatamente live su twitch pilati fumetti con un sacchetto e un pacchetto vedete dovete iscrivetevi alla iscrivetevi alla canale delle notifiche come ci si scrive il canale delle notifiche punto esclamativo telegram scrivete punto esclamativo telegram e il bot vi dirà come iscriversi al canale delle notifiche che è un canale molto molto bello e che ti manda una notifica ogni volta che vado live perché lo faccio a mano punto esclamativo se non metti il punto esclamativo non lo fa però ma grazie da dario for game per essere qui tra l'altro non ho fatto la cosa fondamentale ovvero ripupparlo anche sul canale dei sub ecco vedete guarda che bello potete iscrivervi al gruppo telegram quello dove si parla di tante cose poco interessanti poi gruppo delle notifiche e poi il consigli per l'acquisti e se poi per caso foste sub con il fantastico comando punto esclamativo sub scritto sub potete accedere all'esclusivo gruppo dei sub quello bello 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 in modo assurdo in cui la gente è tutta cordiale e se non è cordiale viene calciata a calci nel culo potere pelato sono tornato e sono qua tra l'altro vi informo notizia di oggi potete se siete ricchi sono pieno di soldi potete iscrivervi cioè potete sabbarvi all'esclusivo canale di cantina pelata non so perché l'ho messo lì così c'è la sub a un euro 0 99 centesimi 0 99 centesimi al mese meno di un caffè dovunque voi viviate potete sabbarvi al gruppo dei di cantina pelata non so perché dovreste farlo è non lo so però io l'ho messo poi sono sette brossurati no sono 12 è che tu non sai le cose bella qui c'è un allora qui c'è un problema di base che tu hai guardato l'edizione probabilmente i sette brossurati si riferiscono a quelli pubblicati da planeta se noi andiamo a cercare solo fatto lo facciamo insieme così imparate a usare il programma il sito più bello che c'è come xbox allora dobbiamo cercare come xbox e quindi cosa si scrive si scrive al riten com xbox non fate caso alle mie ricerche pornografiche al riten com xbox apriamo del riten com xbox a sto punto paywall alle vecchie cantine ai sub no vabbè dai ciao umbe se non hai preso il movimento della terra faccio la re che cazzo è il movimento della terra è un ballo non so cosa sia il movimento della terra della dnit non compro manga della dnit per principio non credo nemmeno ci fosse nella mia fumetteria tra l'altro comunque come vedete qua c'è tutta la serie di unwritten sui 54 numeri perché questa qua è la versione originale americana ma mettiamo che voi siete finiti per sbaglio in quella dei volumi italiani può essere siete finiti sulla serie questo è il primo volume italiano di planeta vai a vedere lista completa lista completa te ne da 4 7 dove cazzo li hai visti te ne da 4 sono 4 manco per il cazzo cosa fare mai guardare la versione italiana ma guardare quella inglese vai sulla serie inglese clicchi qui dove c'è lista completa però la battuta era squallida ah la rivoluzione terrestre ok vai fino alla fine che non è lì ma è qui finisce con il volume 54 vai su vertigo vai di fianco clicchi qua vedi che cacchio era vertigo x37 nello specifico era un written volume 9 ma non sono 9 sono 12 è perché continuava hanno fatto casino su cosa non li hanno calcolo aspettando probabilmente sono stronzi oppure c'è una seconda serie sì era un written apocalypse era una miniserie conclusiva e il 12 era uno speciale e il 12 è il Tommy Taylor della barca che affondò due volte che è uno speciale tipo graphic novel unica e poi c'erano altri due volumi di un'altra serie che era vabbè è un caso difficile lo ammetto fortunatamente allora in realtà questo è uno dei limiti di comics box il fatto che seguano le uscite americane in base a questa assurdità del cioè di crearsi le serie che non esistono ma in realtà probabilmente esistono cioè no in realtà non esistono perché Vertigo Itz non ha davvero i numeri però allora hanno deciso di usare questa cosa che è un po' una stronzata cioè dare i numeri alle serie anche quando non hanno numeri però gli viene comodo per certe cose tipo gli omnibus cioè non esistono i numeri negli omnibus però se tu vai a vedere su comics box ogni omnibus ha il suo numero in base a quando è uscito come anche Marvel Collection perché gli viene comodo per poterli schematizzare purtroppo però questo crea un po' di problemi con le serie antologiche tipo questa che andrebbe fatta ogni serie come una serie singola e non come però in ogni caso sì unwritten è un caso un po' complicato perché c'è questa cosa comunque sono 12 volumi ve lo dico a me must have testamento in fumetteria? non ho capito mi metti un verbo? comprare esiste? si trova? l'ho visto? l'hai visto? ogni tanto siete criptici comunque il movimento della terra ma guardare wikipedia è così difficile? vabbè non sempre trovi tutto su wikipedia più che altro guarda cioè certe serie sì tante no chi è il movimento della terra sembra 12 ore 26 te lo tieni te lo tieni 8 non è molto nuovo se c'è il numero 8 non lo so magari li puoi riscattare IRL no adesso Umberto disse agli zoomer per cosa? no Amazon arriva il 27 ma non so nemmeno cosa sia e comunque ribadisco non compri fumetti di nit cioè a meno che non sia una roba che mi super interessa sono edizioni troppo di merda per quanto mi riguarda proprio banalmente bello storia e disegni di vuoto vuoto grande vuoto uno dei miei scrittori preferiti vuoto sì comunque lo dava il 27 gennaio grande vuoto no non ho visto il il master di testamenti in fumetteria perché in fumetteria sono andato ieri e ieri panini non c'era ancora cioè era appena arrivata ma arriva il martedì e per cui non c'è mai fuori quando vado se vado il martedì e voi potreste dire perché non sei andato oggi perché non c'avevo voglia e perché tanto comunque c'avevo già un sacchetto da farvi vedere e un pacco da farvi vedere e quindi non andavo non so stai per caso seguendo Gannibal no avete mai visto un Gannibal dopo il primo nei miei video acquisti no perché perché non lo leggo e ciao viva ciclop comunque pelato è molto offensivo sono offeso ovviamente in manga di inizio è il 1290 perché guai a fare tango come un classico a 7 euro come fanno gli altri esattamente questo è il problema me lo fai 7 e mezzo me lo fai anche 8 ma 1290 per un tankoball solo perché me lo fai grosso senza sovraccoperta e non particolarmente bello eh ce lo tieni cioè a meno che non sia tipo la serie della vita che proprio dico mio dio devo leggerla ad ogni costo io non mi spiace ma non li compro e si attacchino al cazzo è una scelta veramente folle a livello ciao Bergman Valadier benvenuto ho iniziato l'anime di Kangana Shura si è carino però ogni tanto tu te le tiri i commenti tipo ma mica ma allora non capisci veramente un cazzo cioè ti rendi conto che un tankobon 8 euro è proprio a causa della situazione economica mondiale cioè che cazzo di frase è è come dire eh no cazzo tutto costa di più c'è poca energia e mi aumentano i prezzi dei fumetti eh sì grazie il motivo è quello ah e mi riferivo a quello che non mi quindi perché ti girano le palle non ho capito ah ma con la situazione globale ok scusami sono uno stronzo io perdonami hai ragione sono uno stronzo non so se hai letto l'ultimo di X-Men Red ma la roba che fa Magneto per venire vivo senza cuore secondo te ha senso ma sì ha senso è Magneto stiamo parlando di gente che sposta i pianeti con sì ci sta ora voglio vedere come la risolvono perché Magneto ha detto che lui non torna più in vita perché non lo so ha fatto la magic kumba quindi non può più tornare in vita però si può a parte il fatto che ci sono 7000 guaritori fra i mutanti però perché no se tu sei in grado di tecnicamente muovere i metalli cioè e lui è il mutante omega del magnetismo poi non è è realistico no è accettabile sì è magneto ma sono meglio i tanko bombao 890 che e che comunque sono cari rispetto ai fumetti a 1290 di nitte che sono brutti almeno li curano quelli di goen cioè sono bellini sono fatti bene hanno le cover belline insomma sono troppo cari sì non sono e comunque non li compro certo tutti e spesso sono materia e tra l'altro quelli che costano così di bau sono volumi generalmente molto di nicchia non sono dei cazzo di shonen come spesso invece fa di nit io non mi lamento di showcase cioè showcase per quanto non mi facciano impazzire e trovo che potrebbero fare un altro formato più intelligente però sono robe di nicchia estremamente interessanti anche cosa ne pensi di un nuovo ciclo di punish lo consigli a un novizio del personaggio oddio a un novizio del personaggio nì nel senso che non è male è bello però è un po' poco puniscerosa come serie nel senso che non è il punish ma secondo te è peggiorata sticamente questa situazione di prezzi e che cazzo ne so i manga di nit non mi dispiacciono sinceramente né come formato e qualità e manuel perché evidentemente non hai forse perché non hai soldi tuoi non lo so i manga di nit fanno cagare non hanno la sovracoperta hanno un formato che non ha senso perché non ha senso cioè non ha senso fare quel formato lì e farmelo pagare anche perché tra l'altro star a volte fa quel formato lì e te lo fa pagare con la sovracopertina 6 ore 90 al momento quelli costano quasi il doppio e la qualità non è che sia poi eccelsa in generale in nit per cui poi ribadisco se una casa editrice non ha i soldi per fare le cose o non ha i titoli per fare le cose eviti di pubblicarli zing spiner fanno numeri con due storie della serie principale e altri con due storie no invece meno male che fanno così viva ciclope perché che palle leggersi un numero ogni 15 giorni almeno te ne leggi due insieme anzi secondo me non dovrebbero fare andare a cicli figurati io odio il fatto che facciano come fanno su mi sta sul cazzo terribilmente Batman e anche Superman perché non vanno a cicli invece vanno a due storie due storie due storie due storie che palle fatemi sei storie di Superman sei storie di Superman scemo bambino col ciuffo brutto preferisco di gran lunga perché almeno me le leggo il più velocemente possibile tutte insieme senza stacchi sì ma non me ne frega un cazzo Marvel Mickey è comunque un'edizione di merda e non li vale 12 ore 90 cioè il punto rimane quello non è importante che manga sia e se ha vinto il primo tezzo io a questo prezzo non lo compro se lo tengo eh che al di niente non me ne frega un cazzo poi tento che cazzo aspettiamo aspettiamo di vederli guarda comunque sì perché finché si parla è facile io aspetto però le cose terribili non c'è non c'è niente però mi sei strassimpatico lo so anch'io mi sono strassimpatico grazie carbo grazie ma non mi segui da poco per l'altro mi segui da 10 agosto 2021 icari nel loro essere scarsi come editore hanno aggiusti non sono scarsi cari come puoi dire che è 001 edizioni non è proprio un editore mai nato fuori dal nulla in realtà icari tankoball li faceva già anni fa ma vabbè ok è solo che riteneva sensato fare certi tipi di opere in edizione di quel tipo lì perché boh icari ti fa pagare due euro i cuffanetti in carta pesta ma no ma dai ma sono no ma non sono in carta pesta sono in cartoncino spero spero eh e ti conosco così e non personalmente ah ok no no personalmente sono ancora meglio perché boh mi incazzo meno dal vivo ma chi se ne frega dei cuffanetti servono solo a farti arrivare da casa no non è vero Marvel Mickey cioè non è proprio già a parte che no oddio cioè boh nel senso ni perché allora tipo il cuffanetto così non è particolarmente utile ma ti dà comunque un plus perché puoi metterlo ad esempio ti piace avere l'immagine in copertina a me se non concesso che Panini riesca a farlo bene che non è detto lo metti così e c'è la tua cosa oppure lo puoi mettere così ti danno un plus però non lo pagherei ecco infatti se Panini mi dice facciamo questa cosa e la facciamo pagare due euro ti dico no grazie me lo prendo i volumi singoli che poi effettivamente avrebbero potuto far pagare 7 euro i cosi e far pagare due euro la cosa per tanto che c'è un'edizione sola di questo non li vendono sciolti no li vendono sciolti questi sì è vero li vendono sciolti costano 7,50 quindi vedi è uguale è leggermente troppo stretto in realtà è leggermente troppo spesso il cuffanetto rispetto al manga cioè occuperà un po' di più in libreria no neanche a me a fufu però vabbè a parte che puoi fare è impossibile però che ci sia una una scelta non mi dispiace ed è il motivo per cui odio i cuffanetti panini dei degli omnibus tipo che sono orribili ciao nick però al nerd show ci sei non credo proprio però sabato sono da a novegro non so nemmeno dove sia quando sia però a novegro ci sono viva pelati a novegro pelati a novegro non mi invitano al nerd show non ci vado raga io non vado fuori milano se qualcuno non mi invita forse a parte le sferi grosse chi ti porta a novegro la metro a novegro non c'è c'è un mezzo pubblico ma ci posso arrivare anche a pelato ci posso arrivare anche a piedi non so più parlare Bergman novegro vogliamo il vlog Bergman novegro e vai al comicon non lo so ti posso invitare a casa mia in caso dove a novegro no cioè ce la faccio da solo a palermo non c'è neanche l'etna comics c'è il palermo comics non lo so gente che vuole approfondire la conoscenza che bello ma io sono un illustre clinico come è un po' lontana palermo palermo ci vado solo se mi pagano cioè nel senso quantomeno il viaggio perché no anche all'etna comics cioè io ci andrei all'etna comics mi piacerebbe vedere l'etna comics ma capite che non vado fino a catania credo dovendomi pagare il viaggio fino a catania ma sto cazzo anche per la fiera di fumetti già lucca è pesante già ho preso l'apportamento a lucca non ci sei mai stato all'etna comics no credo di non essere mai stato in sicilia appunto in realtà caverna si è ritrovato sommobuta in camera al comic con di palermo e ha rosicato perché doveva avere la camera singola sovereto ma che ne so soverato cos'è soverato che lavoro fai il prostituto sì che lavoro fanno gli streamer bella domanda soverato sta in calabria adesso litigano è vero a catanzaro sì ma loro li pagano fraz e questa è la differenza se gli dicono ehi venite all'etna comics pagandovi il viaggio e tutto no veramente è quello il tuo lavoro certo no catania catania c'è scritto è al centro fieristico leciminiere che lavoro fai il prostituto anche lui anche tu Bergman fai il prostituto ma non ti vergogni a dirlo no perché dovrei è un lavoro come un altro la gente è bizzarra io do piacere alle persone e quindi è un lavoro nobile a suo modo io sono artigiano faccio l'elettricista vedi anche io sono artigiano in un certo senso quanto prendi all'ora non è mica lavoro all'ora io lavoro sul piacere eh tac comunque io punto a sposare un anziano ultra ricca e farmi lasciare tutto anch'io ma questo è il piano B viva le anziane ricche ho anche un anziano ricco ormai c'è il coso e non ci credere Nick però la cosa non mi turba molto come pensi posso permettermi tutti questi omnibus eh viva la cupa cobra eh what magari un anziano pelato ricco Hank meglio ancora poi diventa davvero pelati e fumetti vedi pelati e bonelli vero vero questa cattiveria contro i soliti lettori bonelliani la posso condividere fai un holly fans con frecht glielo propongo anzi ora gli mando subito un messaggio no non lo faccio dai poi magari ci sta mi fa paura e quando scopa due calvi si scambiano confidenze segreti tra pelati bella verci club grazie fossi donna e carina andrei di holly fans ma non è così allora faceless man non è così semplice in realtà c'è tutta una serie di in un mondo ideale sì nel mondo reale meno stai insultando marvel micchi povero mauro e comunque quando c'è la quando c'è la polvere polvere comunque oggi ho dei brufoli non ho capito perché forse sto andando a male comunque basta parlare di lavori che twitch non approva anche perché sapete che non posso purtroppo non posso lavorare in live per colpa di twitch che è questo social bacchettone e quindi ma sei milionario con quella certo sono un prostituto un prostituto milionario fa stream su twitch è la seconda adolescente è la seconda adolescente è la seconda adolescente è probabile parliamo di brufoli giusto di pizzica al naso a me vengono sempre con lo stress e sarà quello basta parliamo di cose serie no che schifo i capelli non li voglio brutti i capelli dite no ai capelli schifo devo rivasarmi ho comprato la schiuma da barba ma non l'ho ancora usata parliamo di birra non bevo hai un po' di interesse degli annunci che verranno fatti da gand sul nuovo DCU neanche per il cazzo come va di dietro così cioè lo so che sembra strano ma le braccia hanno questa capacità di arrivare dietro la testa qualcuno mi banna i miei nemichi perché ha detto cose che non si dovrebbero dire su questo canale molto offensive oltre che essere ovviamente sessiste razziste pilatiste è incredibile lo so ma riesco ad arrivare dietro la testa ho una enorme capacità di disarticolare la spalla per farcela Hulk non potrebbe perché ha troppi muscoli il gol va poi mi taglio e vengo bannato da Twitch per aver mostrato il sangue su Twitch mi decapito in live laurica domanda per la chat ma ne stai vendendo lì sì perché poi lì c'è no laurica ti risponderò io non ci crederai ma no no è pubblicità e su questo mi riaggancio ho paura di te mi riaggancio mi riaggancio subito andando a recuperare una cosa che abbiamo visto l'altro giorno aspettate che ci arrivo subito forse se ce la faccio siete pronti per vedere un manga a tinte fortemente dark con un protagonista oscuro e controverso come non se ne erano mai visti prima siete pronti fatemi sapere se siete pronti io non voglio devastarvi la psiche siete pronti siete seduti soprattutto seduti calmi mettete la cintura di sicurezza se siete in auto spegnete il motore abbassate la luminosità della cosa perché potrebbe ebbene sì è arrivato il momento è il momento di From the Red Fog di Musa e Noara il manga più atteso dell'anno con appunto un'opera che in Giappone ha conquistato un'enorme popolarità in brevissimo tempo e che è pronto anche da noi a sconvolgere per sempre la vita di voi lettori e di noi recensori e anche di noi prostituti tra l'altro ciao Giappo un fumetto basato sulla pianura padana ora prima di entrare io già mi faccio notare i gatti che popolano la mente di Rwanda qui abbiamo un gatto ben disegnato tra l'altro Sam Lory non è vero questo è il manga che in Giappone ha già raggiunto una popolarità disarmante sono tutti sconvolti dal suo arrivo io ho quasi paura di aprirlo guardate come è oscuro il protagonista con questo coltello pieno di sangue la nebbia rossa puoi confermare che siano tutti maggiorenni vediamo allora questa è un'opera di finzione personaggi, luoghi, entità e sede, eventi descritti sono foto della fanzella degli autori o utilizzati in modo fittizio i personaggi presenti in questo albo sono tutti maggiorenni e qualsiasi somiglianza con soggetti o elementi reali è da ritenersi casuale quindi questo non è un coltello è un brulbero capito? iniziamo con questa tavola a colori bellissima vediamo un candelabro dei teschi e dei petali che cadono e penso che questo sia il nostro protagonista un feroce assassino credo nella Londra del settecento ottocento inizio ottocento fine ottocento non lo so siamo alla fine del diciannovesimo secolo ci ho azzeccato fine diciannovesima però no non è vero è fine mille ottocento fine diciannovesimo secolo città della provincia inglese ho indovinato non lo sapevo l'ho indovinato solo dalla grafica sono bravissimo questa è la storia di un ragazzo che abita lì ho sbagliato di qualche decennio però ma scusate una cosa avete già messo a colori questa posa non potete fare a colori anche queste che erano a colori probabilmente in originale grazie a Saz per il cheers grazie sono sicuro che questo sarà il mio nuovo manga preferito ma gli ammazzano la mamma nelle prime pagine già va male omicidio letto tavoli brutti quadri brutti sfondi brutti grande mi piace già casette casette fatte come tutti i mangaka nei manga scrausi casa fatta tipica tipica casa da manga scrauso non è anche così scrausa ho visto di peggio boh si menano non ha la gamba è bella questa soluzione per far notare la velocità dell'esecuzione mi piace molto devo dire questa mi piace particolarmente questa scelta grafica davvero da premiare no non ci stava la casa è il classico sfondo fatto con righello se sei bravo non li fai così o li fai così ma molto complessi allora già posso capirlo ecco ribadisco se vuoi fare una cosa così e farla bella non la fai così e questo è il problema poi per carità ci mette del suo però si vede che non è fatta da uno che sa disegnare molto bene aspetta ho perso non capisco non capisco non capisco se era una bambola c'è un bambino nudo legato boh non mi conviene questa roba qua gli deve passare comunque questa scelta grafica qua continua a essere una merda cioè ancora funziona su qua ma qua no 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 per carità c'è di peggio e non è orribile visivamente non mi fa impazzire ma non è orribile diciamo che se probabilmente allora probabilmente lui se continua a disegnare per 5 anni diventa bravo mi ci vorrebbe un po' però si vede che no si potrebbe benissimo disegnare boys love non è non è malaccio in realtà è che si vede che probabilmente non è ora vediamo se è la sua prima opera magari è la sua ottava opera in quel caso più di così non darà mai musai noara vediamo musai noara musai no ara musai noara anime click ha fatto precedentemente bam tre volumi pubblicato da noi da magic press tra l'altro ah bam il mostro umano ok era un tratto da era la versione probabilmente la versione manga dell'anime recente credo no non blam bam questo bam la versione questa qua penso che così a vederlo così che lo sia tratto dall'ultima serie animata che non ho visto ma avevo visto qualche immagine anche perché opera originale ADK emotions per cui immagino sia quello e tra l'altro character design del grandissimo no non ce l'ho ranga murata perché mi viene in mente che ce l'ho oh ranga murata vecchio maniaco umberto umberto chi l'è che si è risabbato grazie per la sub Iapo grazie livello 1 due mesi topone grazie grazie ma tu non hai il VIP vuoi il VIP l'ho il VIP livello 1 ovviamente tutti i VIP vengono poi rimossi quando non avete più la sub ti saluto buon salve nel senso che te ne vai ciao popi o pipo anche sì sono diventato VIP ora siamo a 30 sub livello 1 sì ma Manuel come ho detto ieri l'ho già fatto la richiesta delle sub perché ero arrivato a 30 mi hanno rifiutato dopo meno di 24 ore no cara murata future logo non te lo faccio vedere perché poi mi bannano anche perché murata ecco murata secondo me è uno di quelli che se lo intervistano gli chiedono ma come mai disegni tutte queste ragazze molto 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 giovani e molto 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 discinte e lui risponde è boh cioè non lo so e comunque mi piace evitiamo di guardare future log grazie e comunque innamorata sempre di più innamorata sempre di più in fondo all'animo vabbè tempestali di richieste tempesta di richieste ma tanto poi non me la danno stesso ma infatti ve l'ho detto quando arrivo a 10 richieste rifiutate siamo a 6 live 24 ore cioè 24 ore di maratona evviva la maratona senza senza invece della maratona senza nome facciamo la maratona senza partner maratona senza partner 10 volte no ma già non so che criteri ha twitch ah no non si sa perché la risposta è allora l'altra volta mi avevano scritto no guarda se questa cosa devi avere almeno 3 o questa volta le avevo e mi hanno risposto la stessa risposta che mi hanno dato più e più volte ovvero vediamo che la tua community sta crescendo però ancora non ti possiamo dare la parte ma riprova fa 3 o 4 settimane vevi continuo a far crescere la tua community il pazzo di made in abyss sotto le sovraccoperte dell'opera sì esatto solo che lui lo fa solo sotto le sovraccoperte se tu sfogli future log ecco è un po' imbarazzante diciamo che future log non è il libro che dovreste fare vedere a vostra mamma o alla vostra partner appena conosciuta sì guarda oh che belli i tuoi artbook posso sfogliarne uno future log ma cos'è fantascienza no sono ragazzine poco vestite non è il caso no non è pedofilia sono diciamo che tende a anche perché sono solo disegni tende a rappresentare le ragazze un po' giovani e un po' poco vestite e forse non è la cosa migliore nella vita ecco comunque detto questo cos'è pedofilia potere pelato sono tornato comunque detto questo dove eravamo rimasti e poi sono tutte maggiorenne ma non è star comics ciao mark amorevole ed economico nel senso che mi dai dei soldi grazie comunque detto questo abbandoniamo questo manga destinato a sconvolgere per sempre il futuro del fumetto italiano giapponese nel mondo lo leggerò quanto prima non l'ho ancora letto e passiamo ad altro passiamo ad altro ah ovviamente sono quasi solo manga passiamo ad altro con l'oggetto del desiderio il nuovo numero di Marshall ah finalmente è tornato Marshall il manga che in brevissimo tempo ha conquistato un grandissimo pubblico in Giappone e anche in Italia con un personaggio dal carisma inarrivabile e dall'umorismo strabordante una qualità intrinseca inarrivabile graficamente ineccepibile il manga destinato a non essere mai più dimenticato nella vita anche grazie a soluzioni grafiche come queste cosa sto guardando non lo so magia e muscoli o magia o muscoli spero che finisca quanto prima perché ecco questo è il tipo di manga che avrei potuto fare a meno di comprare devo essere sincero però purtroppo l'ho comprato non so perché tra l'altro perché il numero del 25 gennaio 2023 viene targettizzato come febbraio 2023 grandi domande grandi domande no vabbè Marshall non è proprio il massimo della vita non è brutto si fa leggere però almeno i primi numeri facevano ridere adesso non fa più neanche ridere poi per carità c'è di peggio sono d'accordo però non è proprio il manga di livello più alto possibile e sì peccato che a Redicolante questo non arriva perché c'è solo in fumetteria in teoria almeno non credo che venga dato dite che va in oddio in teoria non avendo la sovraccoperta potrebbe andare anche in edicola ma dite che ci arriva in edicola sta cosa perché non lo so più io sinceramente allora a livello di prezzo potenzialmente sì in realtà 5,20 comunque cos'era 4,90 prima eh ma con Stara non è chiarissimo cioè è ovvio che questi qui una volta erano quelli che andavano in fumetteria però boh non lo so ma tipo One Piece costa 5,20 adesso da 4,30 non credo spero di no non lo so ciao tamene come si già il 103 costa 5,20 sti cazzi poi è poi aumentato poco poi è proprio un ciccinino ma dite che li mandano ancora in fumetteria nessuno gli ha riso dietro a Star Comics per questa cosa no perché è da ridergli dietro nel senso che Daredevil di Bendy se bro no non ho ma tamene che domanda del cazzo lo sai che a parte che hai gli Omnibus ho gli Omnibus di Daredevil li vedi cioè no l'ho spillato come vi ho già detto mille volte ma perché la gente dopo anni che è qua ancora non ha capito beh è bello però questa crescita da 4,30 in un numero da 4,30 90 centesimi di aumento su un manga non è male su un manga da 4,30 complimenti Star Bravi siete un po' i miei eroi per carità e lo capisco però fa ridere fa ridere perché One Piece probabilmente non aveva potevano anche lasciarlo almeno a 4,60 sono triste per l'artbook che artbook? ah ok recupera prima l'Omnibus con la Randi Miller che cazzo cambia Mostrada Zotata? cioè ma fagli leggere quello che c'ha voglia no gli Omnibus sono tutti qua politica Mondadori non credo può anche essere che gli abbiano fatto notare ehi però vorremmo che aumentaste i guadagni da 4,5 a 5,5 super sti cazzi poi per carità i prezzi ci stanno però minchia più che altro le alette perché non se le infilano nel culo così come idea ho l'Omnibus di scusate Star Comics come sempre ho i tre volumi di Marvel Legendary e Collection con che criterio scegli gli Omnibus da comprare? nessuno ma Cristian mi spieghi questa tua affermazione che cosa vorrebbe cioè boh e con che criterio scelgo gli Omnibus compro gli Omnibus degli X-Men e compro le cose che non ho in generale la storia di Spider e nuovi mondi di morire non mi fa impazzire bene mi hanno fatto pagare quella di Dragon Ball Super a 550 ora mi sta facendo voglia di droppare sì effettivamente capisco che pagare un euro più che altro il numero faceva cacare questo è un altro discorso le alette io non le capisco cioè non capisco perché si sono inventati sta cosa delle alette per carità ti mettono le alette perché così ti possono mettere il contenuto che sarebbe sul risvolto della sovracoperta te lo possono inserire però a sto punto fammi la sovracoperta che probabilmente gli costa meno dell'aletta secondo me sì Christian Zacca abbiamo capito ma non ho capito perché me lo stai dicendo vabbè comunque andiamo avanti è molto erotico è zigrinato senti com'è zigrinato non so cos'è il nuovo manga di dj pop destinato a sconvolgere per sempre le notti degli insonni insomni ex after school versione variant perché mi piaceva di più e costava uguale ecco quella è quella dei dei bollini mi sa molto rimondatori come cosa Avengers Divisi è più bello mi sembra il preludio di House of M ma è bello come fumetto Avengers Divisi il preludio di House of M è un po' lunga come questo però ok e comunque trama di questo fumetto Ganta va al liceo e soffre di insonnia un giorno trova per caso la compagna di classe Isaki appisolata nel vecchio osservatorio astronomico della scuola la ragazza ha il suo stesso problema ma la scoperta di questo rifugio segreto fa nascere tra gli due un bizzarro rapporto il manga destinato a sconvolgere per sempre la voce del vabbè ma Bonelli l'ha sempre fatto e questa è la differenza Bonelli appena fa aumentare i prezzi direttamente aumenta i prezzi anche dei vecchi l'ha sempre fatto credo almeno grazie Teuzzo per la sub ho starnutito Bonelli sono delle M e ci teneva ci teneva ma no Star Comics adora i suoi lettori poi cioè vanno anche ospiti da Anime Click a parlare di manga Boys Love e boh è bellissimo tra l'altro no l'altro giorno io non ho capito una cosa di Star Comics ma come scelgono a chi manda di manga perché io ho visto una tipa che ha ricevuto questo manga di Star Comics o è un tipo una tiktoker gigante e sugli altri social non esiste ma aveva tipo 160 iscritti su Instagram una roba del genere e aveva il pacco di Star Comics ora ho visto che in effetti collaborava tipo con il sito boh di qualcosa perché magari l'è arrivata attraverso il sito però boh vabbè allora ti faccio una domanda da quante storie ma che cazzo ne so a memoria guarda Cristian adesso smettiamo di fare quello che sto facendo e vado subito a contare quanti episodi ci sono fra Avengers Divisi e House of M oppure potresti cercare di farlo tu usa Google è già difficile capire come c'erano quelli da pubblicare vabbè vabbè buona buona cena Manuel sta diventando come Tex comunque cazzo sono le 18.52 basta mangiare alle 7 comunque questo manga è strano ha dei bei disegni abbastanza standard ma carini nel complesso però vedete questa cosa come si impegnano di più non sempre ma spesso ad esempio negli oggetti interni non sono fatti tutti con la riga questi tavoli sono tavoli disegnati non sembrano tavoli certo se li metti a seta a fuoco sarebbe meglio però non mi dispiace quando ci mettono un pochino più di disegno ma per carità non è che graficamente sia gigantesco però sembra carino nel complesso poi vediamo adesso vediamo un po' com'è un po' troppa riga anche qua però magari è divertente sarà la solita roba tipo commedia scolastica presumo di sì però prima lo leggiamo poi vediamo questa mi ricorda qualcosa questa tavola vabbè no christian house of m non prende spunto da avengers divisi visto che è scritta dalla stessa persona porca puttana è come dire che non lo so è Indiana Jones il ritorno cioè star wars il ritorno dello jelly prende ispirazione da star wars il ritorno dello jelly non ho speranza cioè è il proseguimento della run di bendis bravo vai a leggere agente loki che prende che sembra l'ispirazione per la serie tv di loki cioè a parte il fatto che lì loki lavora per asgard e non per se non essi mai letto gli x-men d'accordo io non lo so non li avrei mai letti quindi non saprei da dove iniziare andrei su internet a chiedere a uno streamer ma da dove posso iniziare a leggere gli x-men scusate mi sono stronzo lo so bello comunque e non lo so sinceramente da dove iniziare allora di base dagli x-men che escono in edicola perché il concetto è sempre quello se vuoi iniziare a leggere fumetto seriale americano che che ti possa dire la gente sapete qual è il punto migliore per iniziare a leggere fumetto seriale americano il momento in cui stanno uscendo mi dispiace che tu sia straziato christian spero che tu riesca a riprenderti cioè le serie seriali nascono per essere lette in modo seriale e quindi l'ideale sarebbe leggersi le storie che stanno uscendo come abbiamo fatto tutti una volta cioè tutte le persone che hanno iniziato a leggere fumetto marvel negli anni 80 90 e 2000 probabilmente come iniziavano a leggere fumetti si compravano il fumetto andavano in edicola sì io sono d'accordo stefalex però temo che tanta gente non ce la fa cioè queste storie qua sono fighe capiamoci per me assolutamente c'è da iniziare cioè se uno vorresse avere una visione coerente degli x-men dovrebbe iniziare dagli x-men di claremont ti compri l'omnibus o gli integrali a seconda di cosa che preferisci e ti leggi queste storie qua però capisco che sono storie un po' vecchiotte quindi non so se tutti riescono a a gestirsi cioè hanno molto testo però sono fighe poi ci sono da fin da cioè già nel primo omnibus abbiamo Byron e disegni che per quanto sia ovviamente si nota che sono fumetti non recenti ma sono comunque visivamente belli cioè non è brutto visivamente anzi e sono fighe alla fine se superi i primissimi episodi in cui si fa un po' di si pongono le basi però il problema è che non tutti sono disponibili a leggersi storie così datate c'è anche Spider-Man però sono molto belle cioè visivamente sono davvero qualcosa l'unico problema è che dopo il quarto c'è un po' di buco e c'è buco anche no vai dopo il quarto perché dal quarto italiano devi passare a quelli di con Jim Lee no Christian Zaka non te la consiglierei sinceramente ti sconsiglio di comprare Judgment Day se non leggi se non leggi le serie principali di cui fanno parte perché non ha senso leggersi gli eventi Marvel staccati dal resto della produzione spesso e volentieri e se non leggi e se non leggi gli X-Men di Hickman e non hai letto gli Eterni di Gillen non ha senso che vai a leggerti Judgment Day esisterà un quinto ma prima o poi penso di sì no Nick però non ti faccio vedere il libro più costoso che ho perché non ho idea di quale sia il libro più costoso che ho banalmente cos'è sarà uno di sti omnibus qua non lo so sarà boh che cazzo ne so un patrol ma non si può richiedere un patrol questo costa 95 forse è questo no sinceramente non ne ho idea no future log non è il più costoso che ho il volume autoproduzione no non è costoso è solo che vale sì non sono male gli integrali anche quelli di Spiderman però quelli sono anni 90 considera che gli X-Men di Claremont iniziano dal 75 sono 15 anni prima eh leggi te lo Ax però però in realtà Ax è intimamente connesso agli X-Men proprio ci finisce in mezzo con tutto il discorso di Cracoa e sono quelli più collegati gli Avengers puoi non averli letti ma se non hai letto gli X-Men leggere Judgment Day diventa un po' incasinato perché non capisci niente di qual è la situazione di Cracoa che non sarebbe male averne un'idea poi lo puoi fare però il pollo fritto invade la live il pollo fritto invade la live in che senso? tra la pubblicità e puoi sabbarti qualcuno gli scrive di sabbarsi Ax va bene ma come deodorante giusto sono d'accordo ma proseguiamo proseguiamo con un breve cambio di tema ovvero con parte del contenuto di questo bellissimo pacco che vorrei capire come si apre ecco a voi suicide squad blaze versione inglese perché non avevo voglia di comprare quella in italiano perché aspetta vero ciclope telefono subito a marvel e glielo chiedo se se finisce Cracoa se gli telefono glielo chiedo ma non è quel blaze è suicide squad è suicide squad blaze pareri su spurrier in generale non lo so non ho ben presente le sue robe su nightcrawler non mi fanno impazzire ma non era neanche brutto però non mi fa neanche impazzire beh ma è ovvio che è collegato anche agli eterni Mirkoelle però essendo gli eterni che attaccano gli x-men è più collegato agli x-men poi è collegato anche agli eterni ovviamente perché sono loro che attaccano gli x-men però ok ma in teoria sì l'edizione italiana esce questa settimana solo che non avevo voglia di prenderlo in italiano in fumetteria che poi in fumetteria non c'è mai poi dovevo ordinarlo sul sito della fumetteria e l'ho detto vabbè dai li ho tutti in inglese prendo anche questo in inglese è anche di Sinkabit sì un po' sì in realtà è di Aaron Campbell con Simon Spurier dai disegni vediamo vediamo probabilmente quell'italiano avrà la carta più patinata questa è meno patinata quanti euro in english ma più o meno costava uguale perché questa qua costava tipo 23 tipo non mi ricordo più compra anche l'edizione italiana e fai mi sembra un'ottima idea poi l'edizione italiana ha la copertina diversa in teoria però la dimensione è quella perché l'edizione italiana panini ha la copertina presa da un altro numero si vede che gli piaceva di più che palle il sito panini che si resetta ogni volta che si apre mamma mia quanto mi fa girare i coglioni voi non avete idea costa 25,65 con lo sconto in italiano però c'è una copertina diversa non so perché c'è questa copertina qua che è un'altra delle copertine del volume in realtà è questa che è la copertina del numero 1 questa qua è la copertina del numero 2 tipo non lo so perché panini ha deciso di usare quella boh forse perché c'è Harley Quinn può essere non lo so però mi piaceva prendere l'edizione inglese perché mi piace evviva e boh vabbè alla fine è tipo questi per cui ne ho un sacco di questi qui sono tutti questi qui e li ho quasi tutti in inglese a parte quello di Batman che ho preso ieri cioè che era ieri nel pacco questo qua alla fine cioè l'edizione è praticamente uguale sono alte uguali sono più o meno molto simili per cui alla fine ci sta più bella quella italiana non particolarmente quella italiana c'ha la carta più patinata questo sì nel senso che gli inglesi usano gli americani usano un altro tipo di carta un pochino meno un po' meno patinata che però cioè boh e ci mettono DC Black Label ad ogni costo mentre qui non c'è c'è solo DC c'è Panini Comics però più o meno siamo lì non è che cambia tantissimo adesso manca Rub's lo metto qua che è troppo grosso poi proseguiamo abbiamo fatto fuori tutti i numeri 1 questo qua cos'è che era non mi ricordo più la descrizione di Star Comics di questo cos'è che aveva di speciale era il numero più grande il fumetto il più grande successo commerciale dell'anno tipo aspettate ovviamente sempre amore per Star Comics capiamoci non li voglio assolutamente che se la prendano perché faccio notare che questo è la nuova serie rivelazione della rivista G-Fantasy no ma che battesionata classica le pozz come ti permetti questo è allora è l'entusiasmante accattivante serie di Naoe dove fantascientifico e azione si mescolano insieme nella nuova serie rivelazione della rivista G-Fantasy oh come vi permettete di dire queste cose oh cioè mica cazzi allora qui abbiamo un uomo dal potente six pack a te che hai spogliato l'albo della sovraccoperta un'illustrazione in omaggio e poi dietro niente invece Naoe ci dice secondo voi esistono gli alieni io credo di sì Tokyo Aliens è una strada sugli alieni che vivono a Tokyo proprio come dice il titolo ok mi piacciono i giapponesi perché loro ti dicono le cose come stanno e vabbè graficamente sembra molto entusiasmante c'è un tipo che ti guarda male c'ha i poteri con le mani poi lui fa le cose così poi si imbarazza posso dire che questo manga sembra una di quelle robe nate apposta per le ragazze in modo che possano poi fare le storie d'amore fra i due personaggi mi dà proprio quell'idea lì quelle vibes lì grazie mami per la sub potere pelato stiamo invecchiando ma so che dentro sei ancora giovane nonostante i 26 mesi di sub vero crada anche a me cioè sembra proprio che guardate sembra fatto apposta proprio per oh mio dio ma secondo te si baciano no non lo so però forse sì 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 esatto domanda ma che tre live due live domani perché non è che faccio una live alle 18 sul mio canale alle 18.30 su saldapress è solo quella no lo scam il club di equilibrio domani ciao già faccio con Ema alle 14 poi faccio la live da saldapress e poi me ne vado anche a fanculo cioè basta con tutto l'amore per Kirio però insomma non credo proprio che avrò voglia la sera di andare da Kirio poi Kirio love come sempre però insomma anche no sembra bellissimo comunque ha ucciso da un alieno poi c'è un bestio graficamente non è neanche brutto però neanche particolarmente originale le esplosioni ma in realtà è un ponte ologramma non lo so e boh vabbè lo leggo poi vediamo graficamente mi piaceva più from red fog non lo so fra tutti e due non mi fa impazzire nessuno dei due devo essere sincero proprio questo qua non mi piace perché sembra un po' sporca l'immagine forse forse sono i neri che sono un po' intensi e tendono un po' a coprire il tutto almeno questo qua è un pochino più originale come grafica non tanto non tanto non molto neanche questo però fra tutti e due non mi fa impazzire nessuno dei due così a pelle poi per carità li provo vediamo adesso in settimana li leggo aspettiamo non sfottare a tex se vuoi essere bandito da bannato dal canale ti assicuro che queste sono le battute che mi piacciono però io te lo dico lo sai che ti voglio bene però evita grazie cosa posso leggere prima di vedere il film di Antman niente porca puttana che cazzo devi leggere prima di vedere il fumetto di Antman il film di Antman niente perché no non posso lanciare questo cosa lancio cosa lancio 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 il mio codice fiscale ok ora sono più calmo poi devo recuperare il mio codice fiscale perché se mi serve non me lo ricordo non bisogna leggere una minchia prima di andare a vedere i film perché o non serve a un cazzo no Love Sky non ci sono dei fumetti anche perché sono storie originali perché dimmi qual è il senso di dire allora io voglio andare a vedere un film di Antman che ha una sua trama bella questa trama di Antman sai che idea ho guarda leggerò un po' di fumetti che hanno come protagonisti Kang e Antman così se per caso c'è qualche idea in quei fumetti che è stata ripresa la so già vuoi vedere il terzo film di Antman vai a vedere i primi due al massimo cioè ripassati i primi due film di Antman sono due media diversi e l'unica cosa che può servire qual è il numero da cui posso partire di cosa? di Antman Antman and Jantman Masterworks credo aspetta te lo dico subito come si intitola perché non ne ho la minima idea Ant si Antman e Jantman 1 questo è il numero da cui puoi iniziare è vero sono d'accordo con Leggo un sacco per ispirarsi va sempre bene leggere un funerale prima lo trovo se lo ordino beh su Panini c'è è disponibile però io non te lo consiglio sono storie degli anni 60 però se vuoi un numero 1 quello è a niente viva ciclope non serve a niente sono storie del non c'è neanche scritto di che anno è però contiene Tales to Astonishings 27 dal 35 al 52 mi hai chiesto un numero 1 se no c'è Antman Antanniversario se vuoi leggerti un fumetto sugli Antman che non c'entra sicuramente niente col film Antman Antanniversario è uscito due settimane fa tipo tre forse Antman Antanniversario se no niente perché non c'è niente di altro di Antman negli ultimi anni questa è la cosa precedente di Antman cos'è stata boh i rimedimo Antman non ne ho la minima idea strano perché un personaggio che parla con le formiche è così facile da scrivere bene comunque tornando a noi guardate chi c'è c'è Gundam Rebellion 17 è l'ultimo no non credo non finirà mai questo manga ormai sono abbondantemente oltre la serie credo io non li sto leggendo ultimamente devo recuperare anche questi cercavo il numero 1 il numero 1 per cominciare non esiste però se vuoi appunto se vuoi cominciare dalle primissime storie di Antman quello sono degli uomini sono virili e hanno dei robot vedi guarda leggo un sacco guarda il coincidenza funerale funerale tombe south burning è un nome south burning ebbè si è il capitano burning south burning perché io adoro chi scrive Gundam perché gente con dei nomi ma è così difficile aprire wikipedia e cercare dei nomi normali che cazzo si chiama sud Antman mondo alveare è uno dei volumi usciti negli ultimi due anni non credo di non averlo comprato mondo alveare l'ho visto prima però ma non esce cerco mondo alveare come amo il sito panini quanto mi piace Antman mondo alveare 15-20 16 euro Scott Lang di chi era? di Zeb Wells e di Dylan Barnett magari era carino però credo di non averlo preso questo ma sapete questo qua quasi quasi me lo metto in cosa in cioè non dovrei avere quando è uscito? aprile 2021 aprile 2021 non ce l'ho in lista per caso devo vedere se l'ho preso per sbaglio e poi non l'ho mai letto ma non credo però vabbè grazie ma è il figlio di Kane West cioè tra l'altro no 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 non ci credo ha veramente Kane West ha chiamato suo figlio Nord quindi suo figlio si chiama Nord West ma povero bambino cosa aveva fatto di male? eh ma l'Antman di Kirkman è un po' più vecchio mi sa il capitano Burning si chiama Sud Burning si 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 non c'è dubbio che l'MCU abbia creato dei mosti ma in realtà i mosti non li ha creati l'MCU i mosti li hanno creato quei creator di merda quei creator di merda che per guadagnare due soldi sui volumi dicono alla gente che per vedere un film devono leggere un fumetto e quelli sono dei creator di merda perché il senso è vuoi conoscere meglio il personaggio? ci sono questi fumetti ma ti sconsiglio di leggerli prima di vedere il film perché? perché spesso i film prendono ispirazione da argomenti a caso e andarsi a rovinare l'argomento a caso se vuoi vedere il film è una cazzata anche St. West non è male Chicago West è terribile Psalm che nome è? vedi che non capisci un cazzo leggo un sacco per ogni tanto mamma mia sì ma il problema non è che ti compri per riconoscere le situazioni e riferimenti è che ti rovini i fumetti cioè ti rovini il film sapere già quello che accade perché te lo sei letto il giorno prima quando tu normalmente non leggi quel fumetto è stupido ti rovini la visione del film perché devi farlo? no love ma anche fosse vero che sono tratti dai fumetti non ha senso che te li leggi prima di andare a vedere il film perché ti rovini il film cioè il concetto è proprio quello se tu stai andando a vedere se tu vai a vedere la storia infinita è uscito il film la storia infinita e il giorno prima ti leggi il libro per carità ti sei letto un bel gran bel libro ma ti rovini la visione del film perché ovviamente ti sei già tanto non l'hai letto prima che cazzo te lo leggi due giorni prima il libro per carità in realtà il libro è molto più bello del film e stiamo parlando di una cosa che adatta e quindi coi fumetti Marvel è peggio di così perché tu ti rovini pezzi di film cioè magari ti rovini la sorpresa del film perché l'hai appena letta e mentre guardi il film dici ah ma questa cosa qua è quella che ho letto ieri ah ok perché non sono adattamenti del film cosa fa chi fa i film del Marvel Cinematic Universe prende i personaggi sì ma via ciclope capisci che se sei uno di quelli che va che guarda il film e poi va sui canali youtube per scoprire quali sono i fumetti da cui hai tratto non sei uno che legge i fumetti sei uno che guarda il film e questo è il punto e ma hai letto il libro via ciclope perché se non hai letto il libro leggi il libro ma dicevo i film MCU prendono personaggi prendono cose che sono successe nei fumetti e le amalgamo per creare un prodotto originale a differenza di quello che fanno ad esempio nei libri dove tu prendi il libro e rifai la trama del libro ovviamente cambiando un po' dove le cose non funzionano ma non ha senso leggo un sacco l'hype di vedere scene che hai già letto che cazzo di hype puoi avere se non sai cosa c'è nel film ma nemmeno Dario non è neanche così prendono cose e le riamalgamano cioè guarda Civil War Capitano America Civil War era Civil War no ci trova un cazzo lì veramente non c'era niente nel fumetto a parte i supereroi che si menano ma leggo un sacco per cogliere le citazioni allora dovresti leggerti tutto ti leggi eh guarda esce il nuovo film degli X-Men prima o poi succederà cosa devo leggere eh leggiti tutti i fumetti degli X-Men così se c'è qualche citazione la cogli però anche oh guarda esce il giorno di un futuro presente quando è uscito il film era Days of Future Past non mi ricordo ma te lo leggi prima eh no non te lo leggi prima se non te lo sei mai letto prima che senso andarselo a leggere per spoilerarsi le robe che poi vuoi vedere il film tre giorni dopo un mese dopo ma a questo punto guardati il film tanto è quello che ti interessa poi eventualmente ti è piaciuto il film e vuoi vedere come era la versione originale ti recuperi il fumetto dopo starebbe a scegliere qual è la cosa che ti interessa di più se sei un fan dei fumetti guarda leggiti prima i fumetti però ma leggo un sacco ma non lo dici se sei uno che i fumetti non li legge non lo dici perché non te ne frega un cazzo dei fumetti cioè se sei il fan medio dell'MCU non sei un lettore di fumetti Love Sky dipende tu ti ritieni più un fan dei fumetti o più un fan del Marvel Cinematic Universe se ti ritieni più un fan del film più un fan del Marvel Cinematic Universe ha molto più senso che ti guardi il film senza sapere cose piuttosto che spoilerarti potenzialmente cose leggendoti prima il fumetto è tutta una questione di gusto è di scelta comunque è bello Gundam ci sono i robot Tony Bob il Sire questo qua più che di Thunderbolt sembra un Gundam di Gundam Seed però cioè uno zacco di Gundam Seed però ok ah madonna buonasera ho mandato una foto sul gruppo se ti va di vederla su che gruppo dei sub multipli cos'è una scan vuoi farmi tiltare online un culo però però potevi farla meglio scusami dovevi allora c'è c'è l'opzione in Photoshop di prendere gli angolini dell'immagine e trascinarli in modo che si allarghino bene sullo schermo così bella bella mi è piaciuta ma potevi farla meglio impegnati di più la prossima volta e sarai più soddisfatto mi ritengo più un fan dell'MCU ma dal 2017 ho iniziato a leggere mavera ho capito subito che scusami l'entrambio eh sì che schifo la droga anche se ne sto facendo uso in questo momento va bene puoi dire a tuo fratello che l'ho bannato mi piace l'opera grazie comunque io mi ritengo più un fan ok tornando avanti grazie devi leggerlo l'ho fatta con Instagram mi applica si applichi di più e ritorni sentati i suoi lavori ora Shadowhouse con la solita bellissima card che è Shadowhouse molto bella affascinante e non è da tuo fratello l'ho letto io l'altro giorno no no non leggo un sacco il via ciclop ho letto leggo un sacco volevo dire leggo il via ciclop e vabbè il fumetto purtroppo non lo sto leggendo da un po' ah guardate questa immagine qua e dovrei rimettermi in pari continua va bene siamo arrivati al numero 11 si Alec ci sta alla fine è una serie completa e è completa è autoconclusiva è l'ultima cosa pubblicata sui guardiani in America sì perché no no non sono meglio i guardiani di Bendis erano orribili i guardiani di Bendis da quello poco che ricordo me li ricordo poco ma credo fossero terribili solo leveling 11 evviva solo leveliamo tutti insieme anche perché Ewing e Bendis insomma solo leveling gran bel numero come sempre uno dei manga migliori di oggi anche se non è un manga ed è un webtoon coreano ma fa niente mi piace molto ve lo consiglio assolutamente guardate quante demoni spade cose energie scontri e anche politica di sottofondo fra i duri rapporti fra Corea e il resto del mondo gli equilibri di potere perché chi ha più antere più potente capolavoro assoluto capolavoro assoluto Bendis ha ridefinito i personaggi per come li conosciamo non credo proprio non credo proprio che fossero i guardiani di Bendis quelli che sono stili definiti per come li conosciamo però ok se lo dici tu ci credo mi sembra una minchiata così a memoria però ci credo ciao set quei cazzo sono i guardiani di Bendis perché adesso mi metti curiosità no quelli moderni sto cazzo quelli di guerra di Bendis erano erano quelli che si incontravano con no aspetta vediamo omnibus 1 però non mi dice niente così erano quelli in cui c'era Iron Man ma proprio no mi spiace ma li hanno li ha ridefiniti prima non è stato lui a creare per l'altro non l'ha creato lui il gruppo e nì in realtà perché quelli del cinema sono stati comunque copiati pari pari da quelli che già c'erano e che sono stati creati fondamentalmente nel segui cioè da come si chiama bravo mi sei fatto bene a droppare Friaren anche se io lo continuo a leggere anche se mi fa un po' cacare e dicevo i guardiani della galassia moderni nascono in seguito fondamentalmente a coso come cazzo si chiama Anichilation è lì che rinascono perché prima i guardiani della galassia erano quelli del futuro e non c'entravano una mazza qui in mezzo c'è cosa però sinceramente non me li ricordo benissimo dovrei fare una ricerchina eeeh buh questi cazzi la storia del poliamore la storia del poliamore bisognerà per i legge vero vero ma non c'ho tempo però sarebbe da cercare su comics box e vedere cosa c'è stato prima di quelli di bendis però non mi ricordo comics box comunque grazie che mi tiri in mezzo ste robe così non faccio quello che devo fare e guardo altre cose volume 1 comics box è quella del trentesimo secolo volume 3 è quella di bendis volume 2 è quella era comunque di bendis no volume 3 è questo volume 2 erano quelli di denebnet è denebnet che ha riformato i guardiani della galassia poi se li ha presi quel coglione di bendis ha fatto quello schifo perfetto nel 2000 dal 2013 non ci credo che non c'è stato niente dal 2012 al 2013 ma che strano 25 numeri comunque e va bene va bene e tra l'altro erano esattamente più o meno i guardiani attuali perché se andiamo a vedere qua c'era Firelord c'era Gamora c'era Rocket c'è Drax e immagino ci sia anche Cosu da qualche parte Groot ma non lo vedo sì c'è anche Groot per cui insomma con tutto l'amore del mondo direi che avere riformati quella della galassia con quelli attuali sono stati loro poi il primo film dei guardiani quando è uscito film è del 2014 quindi direi che anche Gunn non si è inventato i guardiani della galassia va bene eh sì Nova poi hanno fatto il Nova Giovane che era un po' me comunque sempre viva Denebnet viva viva Denebnet lui sì che sapeva fare le cose non come certa gente che invece no leggi anche romanzi il tempo dove lo trovo no ma non è vero che Nova ricorda Green Lantern non c'entra un cazzo con Green Lantern l'unica cosa in cui ricorda Green Lantern è perché sono due corpi spaziali ma non c'entra letteralmente niente non crea cose con l'anello Nova Nova vola e lancia le cose di energia fondamentalmente a tutti i personaggi comunque detto questo torniamo al nostro cazzo di coso già la gente se n'è andata allora yeee questo l'ho letto prima perché mi annoiavo che numero di merda è veramente brutto questo numero è veramente una merda posso dire che questa saga di Dragon Ball è forse la peggiore saga di Super Dragon Ball Super mai fatta ed è difficile però è proprio un'idea di merda cioè questa cosa che tu puoi chiedere al drago di diventare il più forte dell'universo è talmente una stronzata che fa venire meno tutto quello che funziona in Dragon Ball tra l'altro come ne esci da questa cosa cioè a questo punto chiunque può andare su un qualsiasi pianeta dove c'è un drago e chiedere di diventare il più forte dell'universo e andiamo avanti all'infinito che idea di merda complimenti a Toyotaro e a Toriyama che è dato l'ok no ma c'è anche qua il limite cioè il limite è stato tipo sì ok io ti posso far diventare il più forte dell'universo ma devi rinunciare a 8 anni della tua vita una roba del genere la serie tv come può essere canonica Tanubis è una serie tv non è canonica con il fumetto ovviamente comunque se vuoi leggere Punisher devi leggere gli omnibus di Gar Tennis anche perché non so cos'altro puoi cercare però molto meglio leggersi allora se tu vuoi leggere Punisher devi comprarti gli omnibus di Gar Tennis se vuoi leggere un'altra cosa con protagonista Frank Castle che è il punitore in teoria poi ti puoi leggere lo spillato però sinceramente se vuoi leggerti Punisher devi comprarti quelli di Gar Tennis sì no lo so Wall-E che l'ok appena però Freccioverde di Lemair Sorrentino devo dire che non me lo ricordo però l'ho letto a suo tempo era bello però è Lemire Sorrentino è un gran bravo disegnatore per cui però non me lo ricordo così bene quando è uscito in che anno è uscito nel 2000 boh sì l'ho visto ma non me lo ricordo l'ho cancellato no ma infatti fa cagare quella cosa lì fa veramente cagare è New 52 cioè quella di Lemire se Comics Box si sveglia ti dico anche di che anno è dai beh dai 2013 sono passati solo 10 anni boh crada no non in questo momento di sicuro yeee sono tornati sono elfi e sono cose se qualcuno interessasse è uscito anche i Master Inquisitori 5 però non l'ho preso perché voglio prima leggermi i numeri che ho già i Maestri Inquisitori questo invece l'ho preso anche se sono indietro ma perché almeno sto in pari quando escono vabbè fantasy francese ci sono gli elfi e fanno le cose da elfi tipo strapparsi il naso a morsi però ci sono anche la galleria di illustrazioni che figo un po' manga orsi buonasera junk tizi con la barba tizi pelati con la barba forte strane dipende se è Danubis cosa vuoi leggere che mazzo ogni tanto mi tirate fuori un po' il crimine allora tra The Boys ed Invincible cosa vuoi leggere una storia di supereroi estremamente mainstream ma scritta molto molto bene con dei personaggi che crescono però è una storia di supereroi o una storia che invece sovverte il genere dei supereroi iperviolenta splatterosa e molto molto tresciona diciamo la prima è Invincible la seconda è The Boys sono entrambe molto belle ma sono due cose estremamente diverse per cui dipende da cosa hai voglia di leggere tu inevitabilmente Dorgon amo la serie ma non finirà mai tra l'altro uno degli autori ha annunciato le terre Tardorgon e c'è un gorillone come protagonista Dorgon ma perché è questa? cioè intendi sarà terre di Orgon cioè è qui dietro la terre di Orgon e questa è non c'è più qui c'è Aran qui c'è Ogon ma non so cosa sia non so da dove arriva ci mettono la mappa da un po' di numeri ma non mi è chiaro è il Molise ok The Boys si può comprare se si hanno più di 12 anni? mi sembra un po' una domanda del cazzo carada è una domanda del tipo ma leggere tutti questi manga sei più di 7 anni va bene no? perché sai sono fumetti per bambini cioè siamo lì è come domanda la mando sul gruppo o è per la mando sul gruppo aspetta guardala perché è clamorosa che cosa? ok non ho capito che palle questa cosa che siamo andati a vedere le cose sul gruppo è bello è bello il gorilla mi piace è figo è un gorilla un gorilla che non vabbè oh sì è anche subito è figo no se Tanubis che cazzo devi conoscere adesso con tutto l'amore del mondo sono fumetti di supereroi che cazzo devi conoscere di schema cioè non hai mai letto un fumetto di supereroi ci sono i supereroi che combattono il male si radunano in gruppi hanno un'identità segreta non è che sia complicatissimo non è un trattato non è che non è che per leggere fumetti bisogna leggere trattati sui fumetti eh nemmeno per dare opinioni sui fumetti bisogna leggere trattati sui fumetti cioè nel senso quelle robe che a me cringiano un po' ma abbiamo poi i ruroni kenshin eeeh sei che vida è la spada non lo sto leggendo devo leggere anche questo in effetti si muovono in gruppo e si incontrano in posti segreti praticamente gli ultras ma no gli ultras non si incontrano in posti segreti si incontrano negli stadi e buttano i motorini giù dagli spalti ma in realtà non abbiamo ancora finito perché rimane ancora un misterioso oggetto nel pacco ed è rogs come potevate potevate forse arrivarci da soli ma forse ci sarevate anche arrivati c'era scritto quanti numeri erano poi se vai su non si apre però questa è plastica immortale non è terribile come quella panini ma non si rompeva oh non manca più rogs eccolo qua joshua williamson leo max mateus lopez joshua williamson bello il volume però è una storia sui nemici di flash che si rincontrano dopo totto e fanno cose gorilla city gorilla city portina migliore di quella marvel in che senso questo costava anche questo qua un paio di euro o meno della versione panini scontata circa e potevo aspettare ma ho preferito prenderlo così cioè alla fine buco c'è l'art di leo max un po' di studi bel volumetto anche questo con i nemici di flash che carino grod col panciotto mi piace biddo biddo sì però con lo sconto è 31 per cui siamo lì per cui più o meno i miei ordini sì 29 69 panini viene con lo sconto 31 tipo per cui più o meno però visto che ne ho un sacco in inglese 31 e 35 con lo sconto più o meno però vabbè ho detto dai me lo prendi in inglese maculo e almeno ce li ho tutti così e non ce li ho tutti così però se sono disponibili a un prezzo inferiore tanto vale cioè ho prezzo uguale alcuni costano di più in panini in inglese per cui però questo qua costava un sacco per panini quindi ho detto boh sinceramente chi me lo fa fare ok va bene direi che abbiamo visto tutto anche per questa sera quindi che facciamo andiamo da Leda che non la vedevo da un po' in live dai e niente noi ci vediamo domani ci vediamo domani alle 18.30 da Salda Press quindi non mi cerco non ci sarà la live sul canale qua e prima ancora tipo alle 14 da Capcomics ma non mi ha mandato la storia comunque vi mando le notifiche se vi iscrivete al canale delle notifiche su Telegram cioè questo io quando vado in live ve lo notifico e comunque ciao no aspettate non ho fatto partire il ride e comunque vedete un po' voi fate i bravi unitevi al ride con gioia potere pelato aspettate a